Ciao a tutti ragazzi, sono Zetawillix ed oggi sono qui con un nuovo video in cui mostrerò tutti i contenuti eccetto i veicoli del nuovo DLC Lowriders 2 slash Lowriders Custom Classic Prima di cominciare vi ricordate se non vi piace, ci vogliono solamente due secondi di cliccare col bottone blu Lasciate un piaccio a pagina Facebook, la troverete in descrizione di questo video e inoltre iscrivetevi al canale se non credo che ho fatto altri contenuti Se volete vedere tutti i veicoli modificati al massimo di questo nuovo DLC ovviamente modificati al massimo nell'officina di Benny vi consiglio di dare un'occhiata al link nella descrizione di questo video in cui mostro tutte le modifiche di questi tre veicoli usciti con questa espansione Comunque sia, a parte i veicoli abbiamo anche due nuove armi ovvero il fucile compatto che sarebbe praticamente una copia della K74U e parlando di questa nuova arma si tratta di un fucile d'assalto veramente con un'ottima precisione e un ottimo danno e secondo me è anche una buona arma da deathmatch stranamente rientra nella categoria dei fucile d'assalto però diciamo che in un certo senso è meglio così come vedete quest'arma è veramente overpower e secondo me questa è un'ottima arma da utilizzare nel deathmatch se comunque sia non avete soldi o siete dei poveri diciamo su GTA Online vi consiglio comunque sia l'acquisto di quest'arma ugualmente in quanto comunque non costa molto e può esservi veramente molto utile e non mi aspettavo che la Rockstar aggiungesse un'arma diciamo così utile su GTA Online in quanto solitamente nelle espansioni escono armi diciamo abbastanza inutili armi abbastanza inutili come la doppietta Canemozza a mio parere in quanto se premete R2 non spara un colpo ma sparano due colpi e appunto in una cartuccia ci stanno due colpi quindi ogni volta che sparerete con questa nuova arma purtroppo dovete andare ogni volta a ricaricarla oltretutto si tratta di un fucile a pompa quindi non so quanto possa servirvi in quanto se sbagliate un colpo il vostro nemico avrà il tempo di spararvi e di uccidervi insomma quindi in parole povere a meno che il vostro nemico non sia scarso siete fottuti ecco se utilizzate quest'arma soprattutto nel deathmatch ma comunque sia anche normalmente nelle missioni o così secondo me quest'arma è abbastanza inutile però nonostante ciò beh la Rockstar ha aggiunto quest'arma ugualmente parlando invece del resto abbiamo una nuova modalità competizione chiamata Sumo e in parole povere per chi segue il wrestling praticamente si tratta di una Royal Rumble però suggetta online con i veicoli comunque per chi non sapesse cosa fosse una Royal Rumble praticamente sarebbe in questa modalità bisogna buttare fuori dal tetto il nostro nemico o comunque sia i nostri nemici se abbiamo ovviamente una nostra squadra fuori dal tetto e praticamente chi sopravvive chi vince sopravvive non importa quanti ne buttate fuori l'importante è che riusciate a sopravvivere per ultimi ovviamente come ho ripetuto precedentemente questa modalità la potete giocare da solo o comunque sia con una vostra squadra e c'è un massimo di 4 squadre per questa modalità riguardo invece la categoria dei veicoli che possiamo utilizzare in questa modalità possiamo utilizzare tutte le categorie di veicoli esistenti su gitte online e addirittura possiamo anche mettere categorie miste ovvero che praticamente se scegliamo l'opzione in cui non dobbiamo per forza avere una categoria precisa in questa modalità potremmo scegliere qualsiasi ripeto qualsiasi veicolo per partecipare a questa modalità sempre se l'opzione dello scegliere una categoria qualsiasi del veicolo di questa modalità sia ovviamente attiva e si tratta di una modalità veramente molto carina e allo stesso tempo semplice da capire riguardo invece il resto abbiamo 3 nuovi tagli di capelli 16 nuovi tatuaggi e vari vestiti sia per il personaggio maschio che per il personaggio femmina e la stessa cosa vale ovviamente anche per i tagli di capelli ovvero che ci sono dei tagli di capelli sia per il personaggio maschio che per il personaggio femmina purtroppo ragazzi per il resto la Rockstar non ha aggiunto nient'altro però se vi devo dare una buona notizia praticamente nel trailer di questa nuova espansione è comparso che la Rockstar aggiungerà altri nuovi veicoli lowriders molto molto presto che valgono per questa espansione quindi diciamo che gli altri veicoli lowriders di questa espansione verranno sbloccati penso a giorni vi darò maggiori dettagli comunque in un video successivo per spiegarvi quali veicoli sbloccheranno con questa nuova espansione prossimamente per il resto ragazzi se volete vedere tutte le modifiche dei 3 nuovi veicoli usciti con questa nuova espansione date un'occhiata al link del video nella descrizione di questo video oppure cliccate su questa scritta in questo momento e detto questo per farlo se mi piace ci vogliono solamente 2 secondi cliccare col bottone blu lasciate un piace a pagina facebook la troverete nella descrizione di questo video e inoltre iscrivetevi al canale se non lo avete fatto per altri contenuti da ZWX è tutto ci sentiamo al prossimo video rialzarsi con i piedi nel fango dai con te i passi sono circondato da spiriti falsi che sorridono non lo farebbero se i denti glieli le passi